Achille Costacurta torna sui social. Settimane fa, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è finito al centro di una polemica dopo la pubblicazione di alcune foto sul suo profilo Instagram. Le storie mostravano bustine di polvere rosa, mazzette di soldi e un passaporto con il nome del giovane. Contenuti che hanno fatto finire il figlio VIP al centro di una accesa polemica. Tra le foto c'era una bustina con una sostanza sconosciuta e la didascalia, quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi, facendo riferimento alla droga. Un'altra immagine ritraeva delle mazzette di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta, vai, come si traffica, e ancora un commento in un post dell'ex Miss Italia, hai 50 anni, cazzo asterisco asterisco. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma. Chiocciola Marti Colombari, no vabbè che ridere era la grotta dove ci siamo pippati un due terzi grammi di chetamina che risatee, aveva scritto in una foto dove la madre posava in barca. E poi, mangeroccevi che a Miami come al pacino e, pure in America, ai controlli melosucana asterisco, affiancata dal tag Marti Colombari e nella foto una polvere rosa che poteva essere MDMA ecstasy in forma cristallina o polverizzata. Ovviamente è impossibile determinare con certezza la sostanza, ma le storie di Achille Costacurta hanno sollevato un vero e proprio polverone anche contro Martina Colombari e Billy Costacurta. I due non hanno commentato il fatto ma in queste ore, dal profilo TikTok del ragazzo, l'unico ancora attivo, è spuntato un video in cui compare insieme alla madre. Sugar Mommy, scrive Achille sorridente vicino alla Sugar Girl e la scritta a Partner in Crime. Poco prima anche un video in compagnia del padre Billy, Sugar Daddy, e in sottofondo una canzone che dice Parlate di me, chiaro riferimento alle polemiche di qualche giorno fa. Il giovane si trova in montagna insieme ai genitori e sotto ai due video molti utenti hanno lasciato diversi commenti. Il figlio che tutti vorrebbero, questo ragazzo non si smentisce mai, ha bisogno di aiuto, si legge sotto al video pubblicato con il padre. E sotto quello in compagnia della madre si legge, Martina ha gli occhi tristi, nessuna mamma dovrebbe avere queste preoccupazioni, il voto più assoluto, poverina Martina, come triste questo ragazzo, per me ha gli occhi tristi Achille, il nulla cosmico, lei è molto triste. Incommentabile, Houston abbiamo un problema, anche più di uno, ma ci fa o ci è.